Nel 1948 Giulio Pastore e Carlo Donacatten furono fra i fondatori della Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori, che si staccò dalla CGL per poi diventare nel 1950 quella che tutt'oggi è la CISL. L'idea, poi portata avanti nella veste di parlamentari e di ministro nel caso di Donacatten, era quella di far entrare i lavoratori a pieno titolo in un sistema democratico basato sulla rappresentatività e sul confronto dialogante con le altre istanze sociali. Un convegno al centro congressi Biglia di Saint Vincent ha ricordato il loro lavoro e le loro figure, ripercorrendo gli anni della fondazione e dello sviluppo del sindacato. Si tratta di esponenti del cattolicesimo sociale piemontese che insieme hanno l'uno nella battaglia antifascista Pastore più anziano, l'altro Donacatten nella resistenza, iniziato una battaglia per introdurre i lavoratori nello Stato e il loro contributo è passato attraverso la vita della Repubblica in modo importante, entrambi i ministri, entrambi i sindacalisti, prima che uomini politici, hanno saputo combattere per una giustizia sociale più reale e vera, secondo peraltro il dettato che la Costituzione ci aveva dato. Era previsto l'intervento del capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano Del Rio, che nell'impossibilità di partecipare ha inviato un messaggio video. Io trovo un'attualità sorprendente nel messaggio di Carlo Donacatten, un'attualità sorprendente perché vi è un punto che pare centrale in tutto il suo pensiero che è la centralità del lavoro, anzi la centralità dei lavoratori, perché lui insieme ad altri, insieme a Pastore ponevano il tema di una transizione culturale dal concetto del lavoro, del ministero del lavoro, dal concetto di un governo che si occupi di lavoro a un concetto di una società, di una democrazia che diventasse finalmente la democrazia dei lavoratori.